Matrimonio e luna di miele tra le piramidi per Naomi Campbell e miliardario russo Vladislav Doronin. Secondo il quotidiano del Kailo Al-Aram, la modella britannica e il businessman Moscovita convoleranno il prossimo 7 dicembre a Luxor, dove la coppia trascorrerà poi anche un periodo dopo il tanto atteso sì. Il giornale egiziano non cita fonti ma dà tutto per stabilito e fornisce anche dettagli come la prenotazione per la luna di miele nel lussosissimo Winter Palace costruito nel 1886 in un giardino tropicale nel cuore di Luxor. La cerimonia di nozze invece dovrebbe essere celebrata in un antico tempio egizio, notizia non confermata dal Consiglio Supremo delle Antichità, l'organo responsabile della gestione e utilizzo dei templi. Per il ricevimento che sarà organizzato il 7-8 dicembre assicurà alla Ram sulle sponde del Nilo arriveranno molte star di Hollywood.